benvenuti in questo nuovo episodio di radio fsc unimore la radio universitaria di modena in reggio miglia sono sofia e questo è chiacchiere da bar un podcast di varietà direi il podcast più giallo di tutti e oggi parliamo un po di temi informali con amici e infatti vi voglio presentare andrea che anzi presentati tu andrea di qualcosa di chi sei da dove vieni e cosa fai buonasera a tutti io sono andrea baraldi in arte drionori 24 anni classe 98 sono un ragazzo modenese e possiamo definirmi artista diciamo e nasco come writer alle medie frequento il liceo artistico di modena il ricerci artistico venturi e ho una formazione della graphic designer quindi esco dalle superiori come graphic designer mi specializzo come graphic designer a firenze alla design academy che era conosciuta come la comics internazionale design per quello si chiama io ho sempre pensato si dicesse design design sì il segno il segno in inglese era la comics internazionale il fumetto quella che c'è anche a reggio è uscita dal franchising nello stesso anno in cui mi sono iscritto cioè mi sono iscritto e uscita dal franchising è diventata design in meglio immagino si è cambiato in meglio sì si è concentrata molto di più sulle altre sulle arti grafiche comunicative concentrano non concentrandosi meno di meno sul fumetto sull'illustrazione ma dando giusto spazio anche alle altre agli altri settori dal mio punto di vista chiaramente e quindi mi specializzo come graphic designer firenze e da lì comunque apro la mia prima cooperativa insieme al gruppo di amicizie che si era formato alle superiori a F&Co e quindi lavoro già come graphic designer e street artist diciamo su un murale facendo murale se su commissione e arriviamo ad oggi che mi apro partita IVA sono docente in accademia nella stessa accademia dove mi sono specializzato insegno illustrazione lavoro come grafico e come street artist in murale se su commissione infatti ci siamo conosciuti in questo percorso in cui hai fatto dal liceo fino appunto esatto all'accademia che hai fatto anche la parte della società insomma comunque ti vedevo già instradato fin dai tempi del liceo appunto si può dire che eri un po' un malandrino diciamo andavi in giro con questa voglia di esprimerti in modo diverso non convenzionale quindi non solo quelli della scuola cioè pittorico o scultorio ma diciamo avevi imparato questa cosa che ti piaceva tanto il termine tecnico qual è il tag? la cultura del writing in generale dell'arte dei graffiti poi vabbè da lì ci sono tutte le sottoclassi taggare in giro fare i bombing i throw up in cosa consiste? allora io mi approccio all'arte dei graffiti in terza media attraverso il mio insegnante di breakdance Eric Galloni che lui è un writer tuttora e lui mi ha insegnato a fare graffiti a tenere uno spray in mano quindi io nasco come writer sui primi bozzetti su carta andando a taggare in giro mettendo la mia firma consapevole che è una cosa che non si può fare cioè sì diciamo che no perché così cioè io mi immagino un ragazzo di terza media no 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 spinto da questa voglia di farlo così forte che vai oltre le regole no? sta proprio lì il gioco secondo me nell'arte il brevito nasce anche da quello è una diciamo che è una cultura che si sposa molto bene con l'illegalità chiaramente e con la voglia in realtà la definisco con una funzione territoriale cioè nel senso andare a taggare in giro andare a fare i propri graffiti in giro anche senza consenso diciamo era un modo per appropriarsi di un luogo tra virgolette no? cioè dire io mi chiamo Drunori in questo caso e vivo qui sono di Modena e faccio graffiti è un po' come al giorno d'oggi la firma in questo caso è un po' come al giorno d'oggi il logo per un brand o un biglietto da visita per un freelancer questo perché vedevi le persone farlo? cioè sapevi di quello che taggava con questo nome? è una questione proprio culturale cioè io a tutti quelli che mi hanno chiesto come iniziare a fare i graffiti ho sempre detto bisogna scendere in strada e farli ma perché c'hai sia una funzione adrenalinica è il fare qualcosa che non puoi fare senza adesso pensare che sia una cosa immorale o meno alla fine non fa male nessuno esatto è una funzione completamente adrenalinica cioè fare qualcosa che sai che non puoi fare in poco tempo perché non è scontato cioè riuscire a fare qualcosa anche solo una firma fatto bene un graffito fatto bene, chiuso bene con delle belle colorazioni o comunque con una bella composizione nello spazio in cui prendi in poco tempo e nasce tutto da lì l'arte dei graffiti cioè farlo illegalmente ma perché poi parliamo negli anni in cui è nato dove non c'era la possibilità di farlo in nessun altro modo che scendere in strada senza consenso e quindi questa è proprio una tu applicavi delle regole delle linee guida per fare questo ad esempio adesso io da ignorante mi sto immaginando un ragazzo di 13 anni che la sera o la notte a seconda della famiglia in cui è perché non tutti magari consentono di uscire tardi però mi immagino che si debba andare in luoghi un po' più periferici orari non frequentati da nessuno quindi qual è la tua logica, il tuo iter? qui entra in gioco il discorso di moralità e immoralità nel senso dipende sempre secondo me anche basato sull'educazione che hai avuto se vogliamo metterlo un pochino più su un discorso anche familiare di educazione dipende sempre che artista sei o che artista scegli di essere nel senso che io per l'educazione che ho avuto per il profondo rispetto anche dell'ambiente o di chi mi circonda perché chiaramente capisco che esempio stupido e ci sono andato in discussione con mia madre anche la scorsa volta hai un muro bianco appena rifatto di una casa, di un privato se io domani ci vado a fare la mia tag sopra giustamente ti incazzi è un discorso di secondo me che artista vuoi scegliere di essere io per esempio ho sempre mirato posti per mia concezione infatti poi mi sono distaccato dal concetto del writing sono diventato più un artista tutto tondo nel senso perché mi piaceva anche di più disegnare e ho sempre cercato posti che fossero precedentemente o vandalizzati o comunque deturpati che io in qualche modo potevo semplicemente abbellire o dove il mio intervento non era diciamo non andava a intaccare troppo lo spazio dove stavo andando a lavorare quindi magari il muro bianco del privato della villetta non l'ho mai considerato quanto magari un cantiere non perché c'erano le telecamere no no ma proprio per un discorso di rispetto perché tanto poi c'è discorsi di telecamere e non telecamere sono altri discorsi ancora nel senso non è che se la telecamera ti becca tu domani vai in prigione nel senso c'è tutto un processo che si apriva per capire se sei stato tu o non tu cioè ti devono cogliere nell'atto in cui lo stai facendo ho conosciuto tantissimi artisti che lo fanno di lavoro continuano a farlo anche legalmente andando in autostrada ai caselli ripingere a imbrattare e l'unico modo effettivamente per andare nei casini è essere peccato sul fatto qui mi piacerebbe introdurre il pubblico nel senso che abbiamo un pubblico e non è ripreso perché così rimangono nell'anonimato però so che uno di questi ragazzi ha qualche cosa da dire in merito magari all'etica di dove andare a scrivere a taggare ma scusi so che tu la pensi ma io la penso un po' come lui diciamo che siamo siamo della stessa scuola io appunto se magari vuoi uscire una sera a farti dei tag a farti in murales non è che lo fai in una casa di un privato magari cerchi un posto sei indattato oppure che sai che non rompia nessuno ecco praticamente è quello ma ad esempio tu mi avevi raccontato che la parte di intonaco e di pareti non la vai mai a toccare ma soltanto per esempio serrande le serrande ok i serrande o cartelloni muri pochi muri molto pochi si sono già imbrattati stiamo uccidendo centinaia di writers in tutto il mondo comunque con quello che stavo dicendo ma ad esempio sto cercando di pensare ma tipo l'iter di pensare come vestirsi quando uscire dove andare è tutto a caso nel senso che uno lo impara facendo sì o c'è una community allora io sono sempre dell'idea che in tutto quello che è stato il mio percorso artistico ma anche nel mondo del writing da solo non si fa mai niente cioè anche gli interventi se vuoi di chiamarli di vandalismo quello che vuoi ma anche delle crew più importanti che ci sono state in questo ambito quindi di proprio fare graffiti illegali eccetera come non solo non più come una funzione territoriale ma come una funzione di sociale politica cioè di rivoluzione no? di rivalsa sono crew di 30-40 artisti anche e quelli di Berlino mi dicevi One Up Crew che sono una crew vastissima che hanno fatto le peggio cose da fermare i treni in corsa e pittarli a andare sopra i tetti e calarsi con le corde è tutto un discorso culturale cioè la ricerca dello spot lo spot è il posto dove vuoi fare il pezzo anche il momento giusto magari esatto la ricerca dello spot del momento giusto dello spot più in alto più in vista quello che magari può dare più fastidio per diffondere un messaggio qualsiasi all'epoca negli anni 90 nasceva come funzione territoriale dove io mettevo la mia firma e magari anche il numero civico della strada in cui vivevo per dire io sono qui come noi a Modena abbiamo 059 il prefisso di Modena c'è una crew di modenese che si chiama 059 storicissima e si è evoluta poi negli anni in qualcosa di molto più profondo come una rivoluzione sociale e politica per diffondere messaggi che magari a me mi sta sul cazzo qualcosa e lo spiego attraverso la mia forma d'arte poi il writing si può riassumere semplicemente oltre alla funzionalità della tech dell'aspetto illegale è uno studio vero e proprio delle lettere cioè trasformare la lettera in un'infinità di modi affinché sia sempre leggibile sia sempre capibile ma in una forma un pochino più artistica e nel corso degli anni poi vediamo come il writing si è sposato molto bene con la tipografia o con la comunicazione in generale prima ti ho fatto ad esempio tag, logo perché ci sono tante cose che poi possiamo collegare e non a caso molti writer oggi sono o tatuatori o illustratori o dei tipografi ma perché è uno studio vero e proprio che si esegue negli anni certo tu alla fine nasci un po' così in strada come writer ma adesso non ti definisci più come tale no? poi tra l'altro si può dire che nome usavi o è un problema? no allora io avevo due nomi chiedo di avvicinarti al microfono così ti sentono meglio vai io avevo due nomi adesso mi chiamo Drew Nori e Drew era il nome con la quale io che mi è stato dato da mia sorella ed era il mio nome da bboy da breaker cioè io quando ballavo breakdance avevo bisogno di un soprannome da ballerino mia sorella mi diede Drew come nome da Andrew Drew ero piccolino mi piaceva ed era il mio primo soprannome quindi ho tenuto Drew sia per l'aspetto del breaker della danza sia per l'aspetto un pochino più legale della mia arte quindi quando facevo le tele quando facevo le prime commissioni i primi murali mi taggavo sempre con Drew Nori nasce come nome un pochino più illegale perché avevi bisogno di un altro tag io avevo comunque voglia di usare un altro tag Nori oltretutto sarebbe il nome con la quale avrei sempre voluto chiamarmi ma la gente già iniziava a chiamarmi Drew quindi non aveva senso utilizzare Nori Nori era il mio secondo nome con la quale facevo graffiti e nasce da da Iron cioè avevo invertito la parola e Iron era il nome con la quale mi chiamava mio padre quando mi misi il busto per la schiena grandissimo trauma per me perché ho sempre avuto dei problemi di schiena tipo Iron Man esatto mi misi il busto per la schiena un enorme trauma e per sdramatizzare questa cosa mio padre mi ha perculato per mesi chiamandomi Iron Man perché il mio busto aveva un'imbragatura metallica e aveva una specie di rombo quindi ero a tutti gli effetti Iron Man e iniziò a chiamarmi Iron io stavo cercando all'epoca un altro nome con la quale iniziare a fare graffiti insomma ma anche semplicemente non tanto per il concetto illegale andare in strada ma proprio perché volevo un nome da writer ed è diventato Nori poi immagino che rischia da bocchiare tanto per vedere se stanno bene le letterevano con l'altro esatto c'è stato uno studio enorme dietro ma di anni poi io facevo solo graffiti e nel tempo è diventato Drio Nori con la quale poi ho aperto la mia partita IVA nel senso è diventato proprio il mio brand ed è diventato Drio Nori perché poi tutti mi chiamavano Drio nessuno conosceva Nori io volevo tirare fuori Nori ma poi Nori ad esempio è un tag che ha fatto una bruttissima fine sì me l'hanno copiato me l'hanno copiato se vedete dei Nori in giro non sono io quindi tu reagendo a questa cosa comunque secondo me l'hai presa con molta filosofia perché comunque per tanto tempo è stato un tuo nome tra l'altro continui a dire che è sempre stato quello tuo preferito ma allora è un mondo quello dei writers abbastanza complesso diciamo che io so di gente e ho conosciuto persone che se gli vai a coprire la firma se ti copiano il nome cioè rischi le botte ok ma anche all'estero l'ultima una notizia recente di un annetto fa ormai di un ragazzino che di uno youtuber credo non lo so che è stato picchiato da dei writers perché l'aveva coperto delle scritte quindi è un mondo molto complesso con persone molto diverse tra loro anche a livello di mentalità perché poi ognuno ha la propria concezione e io sono il man of writer di tutti nel senso che va bene mi hanno copiato il nome mi ha dato fastidio perché cioè nel senso ci sta si poi cercavano di imitare la calligrafia e quindi io mi ricordo che sono andata a Rubiera e c'era che ci facevi a Rubiera però dall'altra parte quello che ho pensato io è stato più furbo di me nel senso che se io non sono mai andato a Reggio a Bologna a Carpi a Soliera a taggare con Nori perché evidentemente non ti interessava non mi interessava né avevo l'esigenza di farlo se questo qua ha avuto la brillante idea di chiamarsi Nori magari non sapeva manco che ci fossi io a Modena e se ha avuto la brillante idea di chiamarsi Nori taggare mezza città compresa Modena ben venga cioè non posso dire nulla e da lì che è diventato poi Drinori cioè riappropriarmi di un nome che avevo creato io che all'epoca quando avevo creato io ero completamente nel senso sapevo che ci fossi stato solo io non avevo visto nessun altro tag in giro c'era solo io riconoscevi comunque il tuo tag certo e sono ritornato ad appropriarmi di un nome accostandolo ad un altro fondamentalmente guarda intanto faccio scorrere un po' di immagini del tuo vecchio Instagram ho preso proprio quelli più vecchi se vuoi ancora più giù ci sono tutti i graffiti ma stiamo parlando del 2014 allora vorrei partire da qua perché ho un ben ricco ecco non andiamo lì ho un ricordo ad esempio di questo mi viene da pensare perché è stato uno dei due primi poi dimmi se sbaglio uno dei due primi lavori figurativi cioè illustrativi in cui andavi proprio a fare ricerche da internet da Pinterest quello che usi e poi lo lo dovevi convertire in qualcosa che potesse essere fatto con lo spray e quindi con una tecnica completamente diversa da quello che avevi trovato per esempio quindi ad esempio questo poi questo l'esempio secondo me vedi qua ti firma Vidriu questo mi viene da pensare che non facevi solo Morales perché appunto hai cominciato a pensare meglio dicevi all'illustrazioni a disegnare eccetera però qui secondo me ero nei concept quello là è il periodo del felpe d'istituto se ti ricordi non tanto con AF non tanto con la cooperativa ma anche con altre realtà erano i primi lavoretti che facevo per creare dimostrazioni quale sempre si è avuto su qua il Sigonio per esempio sì che poi è finito ad un'altra scuola liceo musicale cioè comunque un po' me lo ricordo poi non è difficile da intuire ecco questo è ancora me lo ricordo secondo me hai stampato qualche maglia qualche felpa la canzone che avevamo creato ai tempi se ti va con Ares era la canzone di Ares e Marianna sì esatto che poi l'ha cantata lei e ce l'ho a casa quella felpa però c'è questa cosa ricorrente lo noto che chi magari pratica questi questi con lo street artist ricade sempre un po' nell'andare a lavorare anche su materiali tipo magliette cappelli scarpe tu fai tanto questo vediamo se riesco a trovare qualche immagine ma sì poi come dicevo prima ad oggi molti artisti che fanno graffiti che fanno street art che fanno murales poi vai a scoprire cosa fanno nella loro vita quotidiana o sono tatuatori o sono illustratori o sono dei grafici o fanno calligrafia insomma fanno sempre arte in generale e questo è il Abate Road che forse qualcuno riconosce qualcuno riconosce perché c'è il Modena centrale insomma un lavorone anche questo ah qua mi ricordo benissimo che il comune di Modena ci aveva dato tutto l'ok e anche il rimborso per il materiale che è una cosa molto rara e tu non contento sei dovuto andare a imbrattare il pattume che non ti avevano concesso e tu eri completamente preso dal momento che sei andato a imbrattare pure si si erano del centrale ma sono durati un pochino un pochino di anni ci sono stati questo è stato un lavoro invece commissionato il modena 18 quindi comunque era difficilissimo e mi ricordo difficilissimo chiedere l'imborso del materiale cioè io vengo a fare però mi dovete pagare scusa dipende sempre sì poi dipende sempre a me piace dire dipende sempre con che cliente o con che realtà anzi meglio ti rapporti e poi all'epoca magari quando ero ancora i primi inizi non sicuramente non ho adesso sarà un po' pretenzioso dirlo però sicuramente non avevo il nome che ho oggi seppure nel mio piccolo sono impazzito a fare steline comunque quella là ho linea per linea devo dire che ancora si trova gente con queste felpe in giro per Modena ogni tanto le vedo questa no però questa sicuro l'abbiamo stampata quella là per il fermo questa sicuro l'abbiamo stampata del fermo questo qua è il villigelmo sì ancora si vedono persone con queste felpe in giro questo qua è il villigelmo e poi c'è il Venturi sotto la maglia di AF che è molto bella come concetto ce l'ho ancora hai resistito però sì vedi che comunque qua sperimentavi diversi medium questa qua è stata la mia prima tela che ho fatto in assoluto con la mia prima mostra e poi già lì collaboravo con le istituzioni cioè questo qua è già il periodo in cui ah sì questo forse è il primo sì 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 questa è la prima scuola è il primo anno dove ho collaborato con le istituzioni scuola media mattarella e all'inizio dovevo fare dei murales all'interno di alcune classi poi sono passato a fare workshop teorici e pratici con con le classi di terza media ed è una collaborazione che dura fino a quest'anno in realtà quest'anno abbiamo fatto tutta la facciata che purtroppo non ho pubblicato ancora su instagram però abbiamo fatto tutta la facciata esterna della scuola però queste sono tutte scuole magari su questo è un liceo però ad esempio sì 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 ti hanno proprio chiamato quei qua era il periodo di autogestione invece cioè il selmi vabbè io conoscevo i rappresentanti dell'istituto e i rappresentanti dell'istituto volevano fare un evento di autogestione con me e siamo andati a riqualificare la centralina esterna e il colonnone interno che vabbè è un pochino più giù l'abbiamo superato quindi dici che era brutto da vedere ma serviva doveva stare lì e quindi l'hanno voluto abbellire sì esatto ma poi era coincideva con il termine delle scuole quindi là l'avevamo utilizzato poi come spot per farci tutte le foto insomma è stato un evento carino però è bello che le scuole abbiano questa concezione che uno cioè i ragazzi hanno quell'età in cui hanno bisogno di certe cose che non esistevano non ho un tempo è arrivato negli anni diciamo io mi ricorderò sempre avevo fatto un articolo sulla gazzetta di Modena dove mi lamentavo appunto di questa cosa che non che la cultura dei graffiti ma dell'arte realtà di strada non non veniva insegnata all'interno delle scuole ma non c'erano neanche laboratori extrascolastici che ti facevano avvicinare ad una cultura un pochino più informale rispetto all'arte classica che veniva insegnata sia nei licei che nelle medi e mi lamentavo di questa cosa a tempo un anno quindi un anno dall'uscita della gazzetta mi chiama una maestra che adesso è andata in pensione delle scuole medi Mattarella per farmi fare tutta questa collaborazione qua che è durata fino ad oggi e dopo le Mattarella poi c'è stata una scalata in tutti gli altri licei lavorando anche con la cooperativa facendo l'appeggiamento scolastico dove siamo riusciti a fare dei workshop pratici insieme ai ragazzi e andando a dipingere insieme le pareti quindi è stata un'ottima vittoria in realtà tutto quell'aspetto è ancora molto lento diciamo che non tutti i presidi interessa questa cosa è che devi portargli qualcosa che dimostra che effettivamente abbia cambiato o migliorato ma poi è difficile perché sai poi quando si parla che ti devo coprire interamente una parete ti devo lavorare spray c'è sempre un intervento molto complesso devi essere convinto è sempre una grossa responsabilità anche certo volevo far vedere anche questo perché questo non c'entra niente secondo me con quello che era il tuo lato comfort zone progetto bellissimo bellissimo qui come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere Andre? in realtà non è venuto in mente a me mi avevano chiamato come tester per il VR e adesso non mi ricordo neanche qual era lo spazio il laboratorio aperto esatto e se non mi ricordo male infatti 2020 se non mi ricordo male avevano tre giorni dove il laboratorio era aperto era un festival esatto era un festival dove mettevano a disposizione diversi VR e il pubblico totalmente in maniera gratuita poteva andare a fare queste esperienze sensoriali con il VR mi avevano chiamato come tester per far vedere effettivamente che si poteva disegnare esatto qual era la potenzialità qual era il potenziale del VR e mi avevano chiesto di fare live painting con quello mi sono allenato tre giorni non l'avevo mai utilizzato in vita mia sono stato tre giorni mattina pomeriggio e sera lì a testarlo potevi anche dirgli no non è possibile ciao no 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 volevo farlo invece perché non è stata un'esperienza devo dire fantastica e mi ha messo alla prova ad utilizzare uno strumento poiché non era che usciva totalmente dalla mia comfort zone bello bello poi vabbè qua vado un po' avanti che ci sono diverse illustrazioni tu che provi robe non ci sono però ah ecco tu che vandalizzi le scarpe sì qua sono ce l'ho ancora in casa qui era già un po' più accademica come approccio diciamo forse già studiavi qua andavo a Firenze sì all'accademia avevo già la cooperativa avviata lavoravo già con le custom questo concept secondo me è fighissimo dovresti tenerlo mantenerlo perché l'hai un po' perso secondo me quel tempo sì un po' che non l'utilizzavo faceva parte di uno stile che avevo portato avanti per un periodo eh vedi queste linee questo fluido qui molto bello questo qua è uno sfondo per Wico Italia che è la marca di cellulari beh non si cazzi cioè bello nel senso poi illustrazioni ah durante il covid forse è lì che nasce il cascato cascato il foglietto ah no vai tranquillo e qua siamo nella precarietà più totale non ti preoccupare secondo me è qui un po' durante la quarantena che hai usato queste pareti quelle in abate no? sì e forse è lì che nasce anche questa il mondo dei tiktok quello che perché instagram ok è stato un mezzo assolutamente utile per fare anche un po' per te per un archivio in cui ci mettevi le cose poi le vedevi magari tempo tempo dopo e avevi questa cosa di poter andare su e giù cos'è sta roba Andre? cioè questa me la devi spiegare non lo so dovevo creare un post perché poi c'è stato un periodo dove mi ero messo in testa che dovevo essere più social perché appunto ecco cosa c'è che non va nel tuo profilo esatto esatto perché io non sono per quanto i numeri dicano il contrario io non sono una persona affatto social però questi video li ho creati io cioè dai ci avevo messo dell'impegno sì qua ci stava perché comunque collaboravi con altri writer e lì non documentarlo sarebbe stato un po' ci avevo messo dell'impegno però io nonostante i numeri dicano il contrario non sono una persona per niente social e dovevo esserlo in qualche modo e mi sono obbligato a essere un pochino più social diciamo che la maschera la temi solo per la foto perché non la tieni mai sì esatto anche queste Andre secondo me non c'entrano niente ma sì ma infatti dovremmo eliminarle dovremmo eliminare eh ma là posso dire che non sono state le reazioni mie ma dei miei collaboratori però nulla da togliere ogni tanto però vedi la concezione è proprio quella a me dà fastidio pubblicare una foto di me perché tanto penso non ci sia nessun fine a pubblicare una foto di se stessi su Instagram se hai un profilo impostato come ce l'ho io fondamentalmente dipende un po' cosa devi fare già che ti faccio un'illustrazione con dei pesci rossi che mi escono dal collo carino questo è l'ultimo che ha fatto Victoria sì e penso che abbiano adesso questo progetto di cambiare murale sogni no in realtà l'hanno sempre avuto l'hanno sempre avuto loro hanno questa parete è del terzo piano quando proprio vai nelle sale esatto ed è la parete dedicata alle premiere che loro decidono di fare di fare i film e ogni mese cambia e la parete questa parete delle premiere là ci sono io soridente sempre soridente fai cattissimo dopo un tot di ore di lavoro e no questa parete qua è dedicata alle premiere ed era completamente autogestita cioè loro facevano i murale su loro con ovviamente le loro capacità un pochino ridotte perché no no salutiamo il Victoria io gli ho sempre detto che sono stati bravissimi nel momento in cui ci siamo conosciuti che volevamo fare questa collaborazione gli ho chiesto di fare gestire a me la parete delle premiere perché poteva essere interessante fare qualcosa di cioè alla fine io lo faccio di lavoro e allora poteva essere interessante creare delle pareti effettivamente concrete al 100% ma anche regalare tre giorni quattro giorni due giorni quelli che sono in base al tempo che abbiamo di live painting alle persone infatti lì ci sono rimasto tre giorni perché avevamo strutturato tre giorni di live painting dove le persone prima di guardare il film o anche solo in cazzeggio potevano venire lì e io mi ricordo questi momenti in cui sei a una fiera o un evento del genere programmato in cui devi rallentare un po' perché altrimenti finisce troppo presto immorale se quindi fai un po' finta di ricalcare stessa cosa no 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 lì fa sempre parte del gioco nel senso che più io disegno da oltre dieci anni quindi una parete che prima facevo in quattro ore oggi la faccio in un'ora io non la faccio in un'ora perché voglio andare più veloce perché sono sbrigativo la faccio in un'ora perché molte cose che prima non sapevo fare adesso le so fare ed è diventato un'automedissimo è come andare in bicicletta no? prima impariamo ad andare in bicicletta con le mani poi ci vai senza mani quindi quando faccio i live painting se ho una una parete come quella che comunque è abbastanza grande ma non è fra le più grandi che ho fatto sicuramente se prima ci mettevo tre giorni cioè io quella parete lì l'avrei finita in un giorno magari se fossi stato dalla mattina fino alla sera volendo con tutte le pause del mondo con tutta la calma del mondo ma l'avrei finita in un giorno l'abbiamo strutturata in tre perché in primis non aveva senso correre avevo tempo e potevamo regalare un'esperienza sensoriale tra virgolette visiva ai clienti del Victoria e quindi sì tra le pause magari poi la Victoria funzionava ad ondate chiaramente c'hai 300 persone ad esempio non 300 scusami 20 persone 30 persone che all'uscita del del film sono molte di più all'uscita della sala beh sì chiaramente è un centinaio e all'uscita della sala vengono fuori stanno lì fuori ti guardano poi nel momento in cui entrano in sala magari c'hai il vuoto quando c'avevo il vuoto io facevo le pause sì 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 certo ottimo infatti c'è sempre questa logica di faccio un lavoro che ha a che fare col pubblico sia che hai sei in corso con l'opera che una volta finito hai sempre un po' di feedback magari uno passa fa la storia quando eri ad esempio al Maud insomma al laboratorio aperto anche lì live painting è sempre lì il concetto che sai benissimo che le persone ti fanno la storia lavorare con le persone è sempre quello la difficoltà non lavoro soltanto con il cliente o con la parete lavoro anche con le persone è tutta una questione di intrattenere il pubblico o quantomeno renderlo partecipe di quello che stai facendo poi io sono sempre un artista il mio compito nel momento in cui mi chiami è fare il murales e lo devo portare a termine quindi c'è sempre quello che magari ti attacca alla pezza per due ore e tu stai comunque lavorando quindi devi trovare una mediazione però è anche saper trattenere il pubblico e coinvolgerlo in quello che stai facendo infatti non so se vuoi parlare prima del a proposito di pubblico prima dei ragazzi comunque hai avuto a che fare all'Accademia a Firenze ok come docente o se prima di parlare invece del pubblico quello globale quello di cui non sai le facce quello che preferisci tu dai andiamoci 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 io premetto sono ignorantissima ma cercherò di starti dietro ok facciamo vedere il profilo TikTok di Andrea ecco si può subito notare che c'è un problema cioè 6.5m secondo me c'è un bug potrebbe essere spero perché è successo tutto super in fretta dai racconta un po' come nasce questa cosa allora TikTok ripetiamo appunto qua c'è la citazione di prima nonostante i numeri dicano altro io non sono molto social e allora c'era l'esigenza con Ares che è il Ares Frau che era presidente della cooperativa e nonché fratello ormai non di sangue da quando andiamo in prima superiore ed è alimentato poi il mio manager comunque quello che seguiva tutta la mia parte artistica mediatica e il mio lavoro in generale e c'era l'esigenza di voler provare a a sbarcare anche su TikTok perché c'era il boom di questo social appunto che ti faceva crescere molto velocemente e con un algoritmo totalmente diverso da quello di Instagram e quindi per un anno abbiamo provato a pubblicare video su TikTok per un anno abbiamo cancellato profili su profili perché non non trovavamo il contenuto che potesse andare virale subito nel periodo prima del covid in realtà e è da un annetto che io ho TikTok aperto secondo me nel periodo prima del covid abbiamo pubblicato l'ennesimo video dopo che era il quarto profilo che cancellavamo abbiamo pubblicato un video è andato virale 10.000 20.000 visualizzazioni credo con le prime risposte e da lì abbiamo capito che il format che abbiamo creato poteva funzionare abbiamo continuato pubblicando un video al giorno con una parete che mi era stata regalata appunto da batterod che era la struttura dove lavoravamo e sono tutte quelle un video al giorno una tag una lettera uno smile quello che il pubblico richiedeva fondamentalmente nell'arco di secondo me tre mesi è arrivato lo trovo il primo video il primo video è quello da 6 milioni e uno con la lettera rossa ti ricordi se c'è una musica o è tutta secondo me lì c'è la musica sai aspetta che la tolgo perché sennò qua ci blocca secondo me c'è una musichetta però è quello là in alto sì esatto questo questo qua è stato il primo video che abbiamo pubblicato sì c'è una canzone questa sì questa è la parete in terrazzo questa è la parete che io coprivo ogni volta abbiamo pubblicato questo video con la mia tag fondamentalmente cioè nulla di secondo te cosa c'è di interessante in questo video no poi il format come era strutturato che giocava intanto sull'smr quindi tu sentivi non tanto qui perché vabbè era il primo video quindi erano i primi test ma tu sentivi il rumore dello spray adesso mi faccio vedere un altro che ho bloccato tu sentivi il rumore dello spray quindi già questa cosa era una cosa abbastanza rilassante poi il rumore cambiava ovviamente a seconda di quello che dovevo fare eccetera e avevi anche un discorso di pov quindi era come se lo stessi facendo tu in prima persona e altro discorso non da poco è che coinvolgevi le persone cioè il pubblico mi chiedeva infatti il nostro format si struttura solo così mi chiedeva di scrivere qualcosa tipo il proprio nome fai lo smile disegna batman qualsiasi cosa ti facevo gli video in pov tu sentivi e vedevi tutto il processo fondamentalmente quindi ha funzionato con questo abbiamo pubblicato un video al giorno io mi ricordo che tutti i giorni facevo almeno dieci lettere al giorno pubblicavamo un video al giorno nell'arco di tre mesi è arrivato a un milione di follower da lì da un milione ai sei milioni e mezzo è stato solo una crescita esponenziale fondamentalmente ok qua si sente l'SMR e poi c'è tutto questo che alla fine sembra che stia lavorando tra virgolette una stampante c'è questo colore molto contrastato super luminoso poi tu sei velocizzato ma non dà fastidio la mano è leggermente velocizzata poi c'è quelli che e poi lì come funziona come in tutti i social come in tutti i social c'hai quello che ti commenta in maniera negativa quello che ti commenta in maniera positiva quello che ti commenta in maniera negativa ti porta ovviamente altri commenti negativi ti porta altri haters ti porta altre roba sulla quale poi tu giochi chiaramente qualsiasi pubblicità è pubblicità non esistono cattive pubblicità ma solo pubblicità è bello sì all'inizio mi ricordo che raccontavi che purtroppo una lettera aveva più visualizzazioni magari di un Tupac che facevi esatto qua c'è la famosa T famosa T da 300 ormai 336 milioni ma tu hai ritratto di visualizzazioni eh sì è in alto comunque tutto così l'abbiamo pinnata in alto l'attive di 336 milioni è una T che 29 novembre 2021 oh tra un po' fai l'anniversario sì esatto a me non dispiaceva come T però tutti me l'hanno criticata tutti me l'hanno criticata è particolare come T sembra una riete sì 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 a furia di criticarla o comunque a furia di spamarla perché poi lì TikTok si è collegato benissimo a Instagram dove le pagine di graffiti ripostavano i miei video chiaramente mettendomi il credit eccetera è arrivato a 336 milioni di visualizzazioni è stato un boom esponenziale diciamo che questa T mi ha fatto crescere abbastanza solo questo video posso dire una cosa Sofì? vai io questo video l'avevo già visto ma non sapevo che era lui ma l'ho visto purtroppo è così che funziona magari come si fa ma tantissimi tantissimi hanno visto il mio video magari l'hai anche salvato magari l'hai anche salvato perché ti interessa come si tagga ecco può essere può essere però sì poi ti dirò Andre secondo me tutto questo che comunque fa aiuta insomma fa qualcosa è una cosa che devi gestire è una cosa che hai e puoi magari dirlo ti può aiutare a non so a fare qualcosa però non sei solo questo cioè invece ci sono molti tiktoker che sono solo tiktoker dopo diventano altri ed è proprio per questo motivo che penalmente tiktok io non l'ho mai sponsorizzato su instagram cioè se tu vai su instagram al di là che adesso ho tolto anche la biografia ieri perché la voglio rifare ma fino ad oggi non c'era il mio contatto tiktok su instagram e molti fino chiaramente anche qualche mese fa non sapevano che magari io avessi tali numeri su tiktok perché io al di là magari all'inizio sì ci puoi scherzare sopra ti fai promo eccetera perché comunque è stato un ottimo risultato non ho mai avuto interesse di essere né visto come un tiktoker né essere trattato come un tiktoker né ho mai avuto l'esigenza di improntare tutto su quello lanciamo un messaggio ai giovani writers che non sanno bene dove andare devo dire che non ci credeva nessuno però non è una brazzaletta se hai diventato docente docente di un'accademia anche prestigiosa e a quanto pare stai andando bene perché te ne ho richiamato sì sì è il terzo anno adesso che vado in insegnare io ancora non me ne capacito no no non se ne capacita nessuno anche perché poi mi vedi alla sera però questo significa che comunque sei un ragazzo che viaggia tanto va avanti e indietro per Firenze oltre che gli anni di scuola anche adesso che si muove cerca contatti o comunque sempre molto collaborativo ha piacere di sperimentare nuovi medium e questo si vede tanto abbiamo visto anche insieme spulciando un po' i tuoi social e ovviamente non c'è tutto però io direi che comunque sei uno che si alza le maniche e fa probabilmente non si sarebbe detto ai tempi del liceo ma questo probabilmente perché al liceo non c'era la possibilità di poter dire faccio tutte queste cose parlo con queste persone mi metto più in gioco quindi non so magari un'Andrea ma cosa avresti voluto fare tu magari riguardandoti indietro ai tempi della terza media quando hai cominciato a fare quella cosa o al liceo premessa alle medie sai che alle medie ti consigliavano quale scuola dovevi andare a fare no? alle superiori alle medie mi avevano consigliato l'agrario a zoppare la terra sì perché avevano cioè ritenevano che io non fossi pronto per il liceo cioè non ritenevano i miei professori per appunto io non andavo benissimo a scuola comunque disegnavo e basta facevo solo graffiti facevo solo disegni e io già volevo fare questo in terza media cioè io guardavo mia sorella che andava all'artistico che mi aiutava a disegnare mia sorella voleva diventare fotografa e io volevo vivere soltanto facendo graffiti nella mia ovviamente utopia più totale perché poi c'è solo i graffiti non puoi campare adesso non più come primo cioè nel senso adesso è un pensiero che non ho più perché ho avuto le dimostrazioni che in realtà ci può essere un futuro anche solo come street artist ma all'inizio appunto non potevi campare soltanto i graffiti quindi alle medie mi avevano consigliato di fare l'agrario io contro ogni proprio pensiero parere così sono andato invece al liceo artistico non tanto professionale al liceo artistico comunque è difficile liceo artistico in confronto che so all'istituto d'arte sì 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 ma è stata un po' dura rispetto a tutti quelli che possono pensare io mi ricordo anche quando andavo al liceo che c'erano le fazioni sacro cuore quelli che andavano al privato che dicono che fai vai liceo artistico sei un pezzente ok rispetto a tutte queste cose qua io ho sempre detto che liceo artistico in realtà è una scuola totalmente infernale se non ti piace disegnare e io avevo tre in disegno in disegno del vero io avevo tre e perché appunto a me piaceva disegnare ma non mi piaceva molto seguire le regole o disegnare con la matita 4B e poi c'hai i fabriacati secondo me è una cosa che hai imparato a fare dopo l'anatomia e tutte queste regole quindi se tu mi chiedi cosa tornassi indietro cosa farei sicuramente ascolterei di più cioè sarei uno studente migliore rispetto a quello che sono stato ma di base non cambierei troppo perché tutto quello che ho fatto nonostante io non fossi uno studente modello mi ha portato ad avere le conoscenze che ho oggi ad avere una carriera seppur minima chiaramente avviata e e la cazzimma se possiamo dire lo scusate francesismo di portare avanti quella che era la mia più grande passione ovvero fare i graffiti i disegnini sui modi è un peccato che in liceo artistico non si siano fatti almeno da noi nessun tipo di giornata orientativa o anche giornate di laboratori per fare diversi tipi di arte è un peccato tu magari lo rivedi nei ragazzi che vengono da te che escono da liceo proprio per fare anche quel corso di illustrazione però non ho una idea benissimo di cosa significhi perché non è una cosa che si impara con un corso specifico capito ma adesso ci sono anche molte più distrazioni rispetto a prima cioè io ero completamente un fissato cioè nel senso ho passato periodi dove io ero chiuso in camera autodidatta non esiste anche volendo tu non avresti potuto dire c'è un corso di questa roba dopo scuola ci vado adesso un pochino di più ma poco io ho preso anche ho comprato anche dei corsi online su come banalmente usare uno spray in mano per fare del fotorealismo poi ovviamente corsi mirati no e adesso esistono molti di più italiani o no spagnolo spagnolo neanche inglese spagnolo e adesso ce ne sono molti di più di prima magari prima non sapevo neanche come trovarli no io ho iniziato da autodidatta facendomi insegnare anche da eric appunto che era il mio allenatore di breakdance andavamo a casa sua lui aveva le pareti che poteva sporcare tutte le volte che voleva e dipingevamo a casa sua o nei sottopassi adesso per avvicinare finalmente direi finalmente il comune di Modena ha dato l'autorizzazione ad avere dei free wall a Modena quindi posti ah ma scusa parla un attimo dei wall che abbiamo a Modena già appittati perché non so se ad esempio voi lo sapete eh Modena finalmente ci è arrivato un po' in ritardo di qualche anno in realtà e ha dei free wall cioè ha destinato 5-6 muri che poi sono di alcuni sottopassi abbiamo il sottopasso del cimitero San Cataldo e della farmacia Finzi e altri e dove tu puoi andare a dipingere liberamente su quei muri a qualsiasi ora quando vuoi sì senza chiedere permesso a nessuno sono contraddistinti da una targa con il nome del progetto che si chiama muri liberi se tu lo cerchi su google ti dà la mappa di tutti i muri che puoi andare a trovare e dipingere liberamente e senza chiedere permesso a nessuno puoi andare e ovviamente vabbè dipingere poi ci sono sempre è per quello che dicevo il mondo dei dei writers è abbastanza complesso perché anche nei free wall muri dove puoi dipingere puoi trovare persone che magari sta sul cazzo che copri il loro graffito magari fatto il giorno prima quando in realtà fa parte del gioco perché il progetto mori liberi in modena ti dice che quando vuoi a patto che ovviamente non disegni robe dissacranti cioè offensive puoi andare a liberare a sfogare la tua creatività su questi muri poi ci sono alcuni angoli forse un po' sconosciuti che il fai valorizza di modena dove ci sono già dei murales forse abbiamo anche un blu via modena il tato delle passioni la palamolza che adesso stanno distruggendo stanno tirando giù il palamolza cioè il polipo di blu con le mani della mafia che dà su Roma la stazione del corriere e se ci hai fatto caso la parerete a metà da quanto ho capito però non vorrei dire una cavolata però da quanto ho capito la terranno così cioè quella parte lì proprio perché di blu non la vogliono distruggere però in realtà tutto l'intonico è saltato c'hai una una sbadilata di bianco sì 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 a metà graffito e c'hai le mani mozzate che non stanno a simboleggiare più nulla sì c'è qualche opera anche impomposa mi viene da pensare sì quello là era il progetto Icone 2006 se non erro che appunto avevano scelto in realtà come i Palamonza altre polisportive o alcuni muri del centro storico di Modena per e li hanno destinati alcuni writer avranno fatto sicuramente un bando per fare una serie di murales 2006 stiamo parlando di tanto tempo fa sì da lì fino ad oggi c'è stato qualche intervento tra quei miei anche recenti ma non secondo me così grossi come quel progetto lì cioè dove aveva visto abbastanza internazionale come bando sì 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 c'era Blueri Calcane c'erano un sacco di artisti importanti bello bello dai Andre mi fa un sacco piacere ho imparato un sacco di cose oggi e ora per concludere se nessuno vabbè qui avete commenti che c'è vabbè ce lo diciamo poi dopo off camera se ti fa piacere vorrei che ci taggassi una tazza della radio così ce la teniamo come ricordo usiamo questa così c'è anche il tuo DNA no scherzo dopo la laviamo qua vai come come vuoi sto momento social molto social che tipo mi piace questa cosa che gira col penarello in tasca la cellula è ovvio l'hai sempre fatto che uscivamo a prenderci una birretta e tu invece tu guardavi i pali guardavi i cartelli per per capire dove taggare questa mentalità da writer non essendo più un writer con affetto drinorico in cuore benissimo ottimo no di qua no bene Andre e con questa poi ci facciamo una bella foto e con questa spero di aver detto tutto quello che insomma mi veniva in mente da chiederti questa volta non hai sboccato no è una vittoria per la nfsc al mio primo podcast sono andato a vomitare a metà metà intervista a te ho avuto una disintossicazione disintossicazione alimentare disintossicazione un po' di qua un po' di qua un po' di qua un po' di qua